Nelle intercettazioni dei carabinieri di Palermo, gli appetiti della mafia imprenditrice, questa volta su ristoranti e locali del centro storico, avrebbero voluto creare un impero nel settore della ristorazione, riciclando i proventi del traffico di droga, secondo gli inquirenti. A parlare è uno dei due fratelli Amato arrestati, oggi in seguito all'operazione Brevis. I miliardi che ci sono, rispondeva Giuseppe Calvaruso, finito in manette a Pasqua al rientro dal Brasile. È il presunto reggente del mandamento di Pagliarelli, erede di Settimo Mineo, il padrino a capo dell'ultima cupola di Cosa Nostra dopo la morte di Riina. Con Mineo, Calvaruso era stato a pranzo a Ferragosto del 2017 nel locale di Giuseppe Amato in piazza Bologni. Ora il ristorante Carlo V è stato sequestrato. Giuseppe e Benedetto Amato sono accusati di essere il prestanome di Calvaruso, socio occulto. Giuseppe Amato avrebbe voluto aprire un'altra attività alle Canarie. Con gli arresti è scattato anche un maxi sequestro da 2 milioni e mezzo di euro tra beni e conti correnti. Dai conti bancari riconducibili ai due arrestati, Calvaruso avrebbe ricevuto soldi per viaggi, alberghi e cene, sigilli anche alla ditta ed il professional che aveva ristrutturato molti palazzi grazie a Calvaruso. Colpire e individuare i patrimoni illeciti prima che si infiltrino nell'attività economica lecita rappresenta una delle nostre priorità operative che è vincente rispetto al contrasto dell'organizzazione mafiosa.